David Dobrik è un ragazzo popolare, non solo grazie al suo grandissimo pubblico, ma anche ai diversi tipi di amici che ha, inclusi i suoi compagni per i vlog, come John Nash, che ha 20 anni in più di lui, e il sole ed inimitabile John Stamos. Quindi, in questo video, analizzeremo come farvi ottenere un po' di questa grande popolarità senza passare per qualcuno che ci prova troppo. Ora, l'elemento più importante che rende David così affascinante è davvero semplice, ed è che vi fa ridere, e lo fa ridendo e divertendosi per primo. E potete vedere questa cosa del far ridere le altre persone e farle divertire fino all'estremo nei vlog di David, in cui ci sono enormi risate ogni 5-10 secondi. Non solo le risate incoraggiano le altre persone ad unirsi e divertirsi, ma quando ridete alle battute delle altre persone, state in pratica facendo loro un complimento. Senza parole state dicendo, Ehi, credo che tu sia davvero divertente. E le persone sono davvero attirate tanto da coloro che le fanno ridere genuinamente, quanto da quelli che fanno loro dei complimenti genuini. Quindi, se pensate che ci siano dei benefici dall'avere un senso umoristico sofisticato, ridere solo per le battute ben strutturate, abbandonate immediatamente questa mentalità. Una cosa in particolare che potreste cominciare ad evitare da subito è il sarcasmo, che si avvicina molto all'insulto. Va bene il non essere fan di determinati film o canali YouTube, ma non commentate dicendo quanto siano stupide ai vostri occhi. Altrimenti, non fate altro che rinforzare che non ridere sia figo per altre persone e nella vostra testa. Invece, permettetevi di ridere alle battute più sciocche, stupide e di basso livello. E più vi lascerete andare, meglio saranno le vostre risate di pancia e queste sono quelle più apprezzate. Allo stesso modo, non dovete rispondere alla lettera ad ogni frase di una conversazione. Per esempio, nella prossima clip, David sta parlando con uno dei copresentatori che dice che vorrebbe essere a casa la sera per guardare The Office con i suoi figli e David si sposta verso un'interpretazione più umoristica di quello che ha appena detto. Questo potrebbe sembrare più difficile da dire che da fare, specialmente se un'attitudine sciocca non vi viene naturale. In questo caso, potreste pensare che essere voi stessi significa essere sempre seri. Ma in realtà, potete rilassare il vostro senso dell'umorismo rimanendo fedeli a voi stessi. La chiave sta nella preparazione o nel cambiare il vostro ambiente così che vi ponga in una situazione più divertente prima di interagire con gli altri. Parte della ragione per cui alcune persone sono così serie è perché fanno tutto ciò al contrario preparandosi solo con argomenti seri. A casa, guardano il telegiornale, al lavoro, discutono di ciò che va fatto e per rilassarsi leggono saggistica. Quindi è naturale che nel momento in cui interagiscono con il portiere, il cassiero o persino le persone amate siano molto serie e prendano tutto alla lettera. Ovviamente non c'è nulla di sbagliato nell'essere seri, ma potreste perdere il vostro equilibrio se non lasciate mai spazio per un po' di goffaggine. Ed è per questo che prendervi dai 5 ai 10 minuti per darvi la carica con il tipo di atteggiamento che vorreste rappresentare è così importante. Personalmente amo vedere le clip di Chris Pratt perché il suo senso dell'umorismo funziona molto con me. Se volete vedere ancora come Chris mantiene quel senso dell'umorismo così giocoso potete dare un'occhiata al nostro video analisi su di lui cliccando il link qui oppure se volete una fornitura illimitata di battute che vi diano una bella carica i vlog di David possono essere una preparazione perfetta prima di uscire a socializzare. Ora la seconda cosa che noterete guardando David è che quando parla inserisce un sacco di parole di grande effetto quasi sempre a proposito delle cose che ama. Anche quando sembra che abbia dei sentimenti contrastanti non esce in modo neutrale ha parlato delle cose che odia e poi di quello che ama nello stesso momento. La scelta di queste parole dal forte impatto potrebbe non sembrarvi molto ma pensate ad una persona che dice di star sempre bene. È difficile che le cose vi stiano a cuore durante le interazioni con loro e finiscono per passare come delle persone dalla personalità blanda. E dal momento che non volete passare per quello che ci prova troppo la risposta qui non è impreziosire il vostro linguaggio in modo artificiale con dei superlativi che non sono davvero vostri. Dovete muovere invece le conversazioni verso le direzioni delle cose di cui siete davvero sicuri. In particolare quelle cose che vi piacciono davvero. Per esempio se qualcuno vi fa delle domande per potervi conoscere su dove e come siete cresciuti e non siete troppo contenti di queste risposte passate invece a qualcosa di cui vi importa davvero e potete vedere David farlo qui in questo caso verso il negativo. E qui si sposta verso il positivo. Parlando in generale dovete essere positivi ma qualsiasi emozione è meglio di nessuna. Se siete fan del canale a questo punto potrebbe sembrarvi un po' strano perché in video su personaggi come James Bond o Don Draper abbiamo parlato di come la loro sicurezza sia mostrata attraverso la mancanza di dimostrazioni emotive con il non essere reattivi. Come qui. Per chiarire la non reattività che Bond e Draper dimostrano è la conseguenza di provocazioni spesso di avversari. La loro fermezza ci mostra che non hanno paura che le cose vadano male e non importa cosa accada staranno bene il che è il cuore della sicurezza. Ma in molte situazioni sociali sapere che andrà tutto bene assume più l'aspetto dell'espressione entusiasta di David piuttosto che la freddezza glaciale di Bond. Quindi anche se potrebbe sembrarvi diverso a primo impatto parlare con superlativi entusiasti dimostra la stessa sicurezza interna che potreste vedere in James Bond o Don Draper. Alla fine con la persona crede che tutto andrà bene e può permettersi di essere anche se stessa in modo goffo. Ora una domanda fantastica che vi guiderà nella direzione di questi momenti di vera sicurezza è come mi comporterei in questa situazione se non avessi paura? E in molti scenari sociali la risposta è che sareste molto più espressivi come David. Inoltre se vi sta piacendo questo video e volete essere sicuri di non perdervi nessun altro dei nostri nuovi video cliccate il pulsante iscriviti e la campanella delle notifiche. In questo periodo sperimenteremo con diverse programmazioni di caricamenti e senza le notifiche potreste perdervi alcuni dei prossimi video che sto pianificando su persone come Ag Jackman, Scarlett Johansson e magari uno sulla differenza fra sociopatici e psicopatici. Ora la prossima cosa che notate di David è che si trova davvero a suo agio con l'umorismo verso se stesso. Spesso scoppiando a ridere da solo mentre racconta le sue storie imbarazzanti. Abbiamo già approfondito l'umorismo verso se stessi in passato. Per esempio nel video con Chris Evan e Robert Downey Jr. l'umorismo contro se stessi può essere un argomento spinoso perché a volte viene usato per testare le nostre stesse insicurezze prima che altre persone possano farlo. E in questi scenari può essere alienante per le persone intorno a noi. Ma le battute verso se stessi non sono necessariamente una cosa positiva o negativa da sole. Molto più importante è il vostro stato mentale che le circonda e la stessa domanda di prima si applica anche qui. Come mi comporterei se non avessi paura? Se vi accorgete di stare evitando le battute verso voi stessi perché temete che altre persone possano giudicarvi potrebbe valere la pena aprirsi un po' e ridere per alcune delle vostre scene più goffe. Ma ovviamente dovete avvicinarvi a tutto ciò con lo stesso obiettivo. ossia godervi queste storie come fa David. Anche quando ride a proposito di come delude il suo personal trainer si diverte. D'altra parte se state raccontando delle battute contro voi stessi solo perché temete che qualcun altro possa sottolineare le vostre insicurezze prima di voi allora fareste meglio a rilassarvi e non sentirvi obbligati a precedere altre persone. In ogni caso l'obiettivo è semplicemente fare quello che vi diverte di più non quello che credete farà rispondere gli altri nel modo migliore. Ora la quarta cosa che non potete perdervi di David è che sposta la luce dei riflettori sulle altre persone. I suoi amici sono diventate le star dei suoi vlog mentre lui è rimasto dietro la telecamera per la maggior parte del tempo. Adatto a una dozzina e più di persone una piattaforma da cui lanciare la propria carriera nello spettacolo e ha preso i guadagni degli sponsor per donare più di 15 macchine davvero costose. Durante la sua scalata alla fama questo ha sicuramente significato che David era all'ombra di alcune delle persone con cui lavorava in particolare la sua ex Lisa Koshy. È divertente perché ci sono i siti che hanno scritto articoli su me e mi sono detto questi sono i miei migliori e tutti i miei sono Liza ero all'esterno e un figlio si parla a me e mi dice Ma nonostante abbia passato del tempo all'ombra di altri David ha continuato a parlare bene dei suoi amici E le persone l'hanno notato Puntare la luce sugli altri può essere più facile a dirsi che a farsi specialmente quando significa ricevere meno attenzioni e magari non poter tenere quella bella macchina il che ci porta alla mentalità che sta alla base di tutto ciò di cui abbiamo parlato in questo video ed è imparare ad accedere alla gioia degli altri senza dover diventare qualcuno che vive per gli altri chi vive per gli altri può essere che faccia tutte le cose che fa David puntare la luce dei riflettori sugli altri regalare macchine fare regali e raccontare storie verso se stessi ma il suo scopo è quello di piacere agli altri e questo arriva da un desiderio di essere apprezzati e accettati perché loro stessi non si piacciono e non si accettano e ogni singola bella cosa che fanno arriva con delle aspettative nascoste di come l'altra persona debba sentirsi o comportarsi in cambio dall'altra parte la persona che attinge alla gioia degli altri potrebbe esibire quegli stessi comportamenti fare regali fare delle battute ridere di gusto alle battute delle altre persone ma nel loro caso non viene fatto per essere più apprezzati dagli altri ma perché assistere alle gioie degli altri li rende realmente felici e sono in grado di sperimentare questa gioia collettiva perché hanno già dato a se stessi l'amore e l'accettazione che molti altri cercano al di fuori di loro stessi ora non posso dire con sicurezza cosa passi per la testa di david ma posso dirvi che per arrivare a questo concetto ci vuole tempo e ciò nonostante spesso il desiderio di essere validati non scompare ma potete comunque muovervi verso quella direzione col tempo per esempio con progetti che vi interessano anche se non hanno sempre successo con un pubblico più ampio o anche solo prendendo l'abitudine di guardarvi allo specchio e dire ti amo a voi stessi quando vi svegliate la mattina facendo passi come questi e dandovi amore e accettandovi comincerete ad aumentare la vostra sicurezza interna e poi sarete naturalmente in grado di fare in modo che le persone vi apprezzino e vi rispettino e vogliano stare vicino a voi senza che ci proviate troppo o essendo poco autentici e se cercate un modo per costruire questa sicurezza in voi vi consiglio caldamente di dare un'occhiata al nostro corso la Carisma University la Carisma University è il nostro programma guidato passo per passo che vi renderà più sicuri e carismatici in soli 30 giorni più di 5.000 persone si sono già unite al programma e hanno avuto dei risultati fantastici ecco qui alcune delle loro esperienze il primo dice non ero davvero sicuro di me stesso cercavo continuamente delle riaffermazioni e mi importava troppo delle opinioni delle altre persone ma ora la mia vita è migliorata è migliorata tremendamente grazie alla Carisma University mi è più facile connettermi con le persone per avere delle grandi interazioni ed essere felice anche se le cose non vanno come avrei voluto seguire questo corso è stata una delle decisioni con più impatto nella mia vita non potrò mai consigliarlo abbastanza ora questo prossimo membro scrive di come la Carisma University abbia trasformato immediatamente la sua vita sociale e dice grazie mille davvero ragazzi per il vostro lavoro ho avuto immediatamente risultati impressionanti così tante nuove connessioni profonde le amicizie sono migliorate le mie interazioni con dei completi sconosciuti sono delle cose nuove eccitanti e soddisfacenti voglio consigliarlo a tutti dovrebbe far parte del nostro sistema educativo di base ora se siete interessati e volete saperne di più sulla Carisma University cliccate il link sullo schermo oppure in descrizione se lo fate non vedo l'ora di vedervi dentro in ogni caso spero che questo video di oggi vi sia piaciuto e non vedo l'ora di vedervi nel prossimo un abbraccio un abbraccio io compuro bello io voglio